ciao amorosissimi oggi con questo video tutorial andremo a vedere questo progetto sia questa stola realizzata all'uncinetto che sicuramente qualcuna di voi avrà già visto in un'altra versione ma non nel mio canale bensì nel canale di oana oros con la quale abbiamo iniziato questa deliziosa collaborazione che mi sta divertendo veramente un sacco in questo caso abbiamo invertito i tutorial negli scorsi due tutorial che abbiamo fatto io ho realizzato il basco e oana la stola questa volta oana ha realizzato il basco e io la stola abbiamo utilizzato un attrezzo differente perché negli scorsi tutorial questo progetto lo abbiamo fatto ai ferri nel tutorial di oggi sia mio che quello di oana abbiamo realizzato lo stesso modello ma questa volta abbiamo voluto accontentare le tante amiche che ce lo hanno chiesto e quindi lo abbiamo realizzato con l'uncinetto sempre il punto riso e avete anche già qualche tutorial sul canale di questo punto che con questo filato rende veramente al massimo il progetto è molto veloce da fare semplicissimo ma l'effetto lo vedete da voi è veramente molto particolare dato e regalato da questo nodo che è veramente molto bello e rende una semplice stola un progettino davvero delizioso non ci rimane che andrà a vedere cosa occorre e come si realizza per lavorare la stola io ho utilizzato 300 grammi di questo filato panasce presumo si pronunci panasce o panasce ora non lo so comunque questo filato poi nel box informazioni ovviamente vi metterò tutti i riferimenti che è lo stesso filato che oana ha usato per fare il basco questa volta ci siamo scambiate il progetto è un filato molto particolare perché queste piccolissime sfumature micro sfumature all'interno del filato stesso io non so se riuscite a vederle danno al progetto un movimento effetto cangiante molto molto particolare lavorato all'uncinetto rende veramente tantissimo e come vi dicevo ne ho utilizzati 300 grammi ho lavorato tutta la stola con l'uncinetto numero 4 e mezzo poi ci occorre un ago da lana e un paio di forbici andiamo quindi subito a vedere come si realizza la nostra stola iniziamo andando a montare una catenella che sia lunga quanto la circonferenza delle spalle nel mio caso ho montato 200 catenelle faccio una catenella aggiuntiva entrò nel primo punto di base e vado a realizzare una maglia bassa e due catenelle a sostituzione di una maglia alta dopodiché lavoro una maglia alta sopra ogni punto catenella successiva maglia alta catenella successiva maglia alta e procedo in questo modo sino al termine della riga una volta che avremo terminato con la riga a maglia alta facciamo una catenella aggiuntiva voltiamo e andiamo a realizzare una riga maglia bassa partendo dal primo punto quindi in ogni maglia che ci ritroviamo sotto andiamo a realizzare una maglia bassa sino al termine della riga una volta terminata la riga a maglia bassa volto il lavoro entro direttamente nella prima maglia di base faccio una maglia bassa e due catenelle che vanno a sostituirmi una maglia alta in costa davanti nella maglia successiva farò una maglia alta normale quindi sopra il punto lavoro la maglia alta normale adesso vado a lavorare una maglia alta in costa quindi questa la salto e scendo al piano di sotto in questa maglia alta quindi la terza maglia della riga praticamente 1 a 2 nella terza entro in costa e la lavoro in costa davanti allungo il punto sino a farlo arrivare alla base dei punti lavorati nella nell'ultima riga e poi chiudo la maglia alta e lavoro una maglia alta normale nel punto successivo carico e vado a lavorare la maglia alta in costa quindi entro nello spazio tra questa e questa scavallo la maglia da retro ed esco nello spazio successivo aggancio il filo tiro su il punto e lavoro la maglia alta e nella maglia successiva di base lavoro la maglia alta normale quindi sopra la maglia bassa carico scendo di piano quindi vado al piano di sotto dove ho le maglie alte e vado a lavorare la maglia alta in costa sollevo i punti e lavoro la maglia alta maglia alta normale nella maglia successiva e procedo in questo modo sino al termine della riga una volta che avremmo terminato la riga voltiamo e tutte le righe di ritorno le facciamo maglia bassa quindi entriamo nella prima maglia e andiamo a lavorare punto su punto una maglia bassa sopra ogni maglia alta della riga di andata quindi tutte le righe di ritorno le lavoreremo maglia bassa sino al termine della riga ora voltiamo e procediamo con la terza riga del punto che andrà ripetuta questa è la prima la riga maglia bassa e la seconda questa è la terza e sarà esattamente uguale alla prima solo che andiamo a sfalsare i punti quindi iniziamo sempre con una maglia bassa e due catenelle nella prima maglia di base dopodiché andiamo a lavorare una maglia in costa dove nella riga precedente abbiamo lavorato la maglia alta normale quindi che abbiamo lavorato la maglia alta normale adesso scendiamo saltiamo la riga di maglia bassa scendiamo e andiamo a lavorare la nostra maglia alta in costa nel punto successivo che sotto abbiamo lavorato in costa lavoriamo la maglia alta normale carico il filo qui ho lavorato la maglia alta normale e quindi vado a lavorare la maglia alta in costa qui ho lavorato la maglia alta in costa e vado a lavorare la maglia alta normale maglia alta in costa e maglia alta normale praticamente andiamo ad incastrare tra le due maglie alte in costa della riga sottostante la maglia alta in costa in questo modo e procediamo così sino al termine della riga dopodiché voltiamo andiamo a lavorare la riga di ritorno maglia bassa e nella riga successiva di andata andiamo a rifare la prima riga di lavorazione del punto quando arriviamo alla lavorazione dell'ultima maglia alta in costa davanti procediamo col chiudere il lavoro facendo due maglie alte normali quindi una e l'ultima la facciamo che dovrebbe essere in costa davanti però abbiamo l'ultima maglia di base quindi andiamo a fare semplicemente una maglia alta normale ora voltiamo il lavoro e procediamo come detto con la riga a maglia bassa e andiamo a ripetere sempre queste quattro righe di lavorazione sino ad avere l'altezza desiderata ho lavorato le mie maglie per un'altezza totale di 32 centimetri la lunghezza ovviamente varia in base alla taglia ovviamente ognuno di voi la farà lunga quanto la circonferenza appunto delle spalle adesso siccome questo punto è un punto molto bello però tende vedete a fare questi due ricciolini e questa essendo una stola i cui bordi vanno liberi dobbiamo andare a rifinirla quindi andiamo a chiudere il lavoro facendo semplicemente una catenella aggiuntiva tiriamo tagliamo un pezzettino di filo abbastanza lungo che appunto ci permetta la cucitura che poi sfiliamo il tutto e fissiamo il punto e ora vi do un piccolo consiglio per andare a raddrizzare i bordi facciamo questo lavoro quando voi vi ritrovate a lavorare dei progetti che hanno i bordi che si rivoltano andate a fare questo lavoro innanzitutto l'allargate con le mani e poi andate a girare in questo modo fare un rotolino così in modo che i bordi si distendano e man mano a mano che fate questo rotolino tirate leggermente dai lati e poi avvolgete tutto una volta che avrete fatto il vostro rotolino prendete un ferro da stiro e con il vapore andate a dare una svaporata da questa parte e da questa parte in questo modo si distendono perfettamente i due bordi vi danno un modo poi di lavorare agevolmente nel progetto una volta che avrete dato la vostra svaporata riaprite la lavorazione che vedete i bordi rimangono belli distesi ovviamente è un palliativo perché se poi noi non andiamo a fare un bordino si arriceranno di nuovo pieghiamo dalla parte del rovescio ovviamente la lavorazione quindi la parte del rovescio deve essere esterna perché cuciremo sul rovescio andiamo ad unire i lembi da una parte e poi proseguiamo per tutta la striscia sino ad arrivare dall'altra poi pieghiamo a metà da una parte e dall'altra andiamo a sollevare i due lembi giriamo verso il basso quello di destra e andiamo ad incastrare i due lati in questo modo l'angolino lo posizioniamo qua questo angolo va in mezzo a questi due così e poi questo ovviamente accostato così in modo che i quattro lati siano perfettamente allineati quindi li sistemiamo per bene e poi procediamo con la cucitura con i quattro strati perfettamente allineati passo il primo strato e dentro nell'angolino estremo così in modo da portare il filo nella parte superiore e poi vado ad unire i quattro strati entro nel punto successivo aggancio il punto del primo strato il punto del secondo il punto del terzo e il punto del quarto così e tiro e vado ad avvolgere in questo modo con il filo i quattro strati e tiro punto successivo del primo pannello punto successivo del secondo pannello punto successivo del terzo pannello e punto successivo del quarto tiro e ripasso una seconda volta perché questa essendo una stola viene sollecitata molto quindi è bene che la cucitura sia ben stretta e ripetete sino al termine sino a cucire tutto quindi nuovamente punto accanto del primo pannello del secondo del terzo e del quarto fate passare una volta il filo e poi rientrate nello stesso punto e fate passare una seconda volta e procedo in questo modo sino al termine una volta che avremo terminato di cucire andiamo a fare sparire il filo all'interno della cucitura dei punti di cucitura così in questo modo dopodiché tagliamo adesso andiamo ad aprire quindi a rigirare sul diritto la nostra stola una volta che abbiamo rigirato sul diritto la stola procederemo con la rifinitura partiamo dalla parte apriamo il nodo e partiamo dal primo punto che abbiamo libero entriamo nel primo punto prendiamo il nostro filato e andiamo a realizzare una riga di punto gambero per tutto il giro quindi entriamo nel primo punto facciamo una catenella con due fili rientriamo all'interno andiamo ad agganciare il filo singolo e facciamo una maglia bassa poi il filo di lavorazione li facciamo sparire dopo ora entriamo all'interno del punto indietro agganciamo il filo e facciamo la maglia bassa al contrario punto indietro aggancio il filo e lavoro e chiudo le due asole punto indietro aggancio e chiudo punto indietro aggancio e chiudo punto indietro aggancio e in questo modo procedo per tutto il perimetro sino ad arrivare nell'ultima maglia utile prima del nodo una volta che avremo terminato con l'ultimo punto entriamo nello stesso facciamo una maglia bassissima tiriamo tagliamo fermiamo filo e poi lo facciamo sparire all'interno dei punti lavorati adesso andiamo a replicare la stessa cosa nella parte di sotto ovviamente questa volta andremo ad agganciarci nelle costine inferiori della catenella iniziale e poi così come abbiamo fatto prima con i punti facciamo con le costine quindi entriamo nella costina del punto indietro agganciamo e facciamo la maglia bassa al contrario costina successiva del punto agganciamo maglia bassa al contrario e procediamo così per tutto il giro ed eccola qui una volta che l'avrete indossata come si presenta alla vostra stola è veramente molto elegante perfetta per valorizzare anche un semplice abito calda avvolgente e morbidissima ora non vi rimane che provare a farla per vedere il basco di ioana vi metterò poi il link nel box informazioni e colgo l'occasione per mandarle un bacio grande il bacio grande lo mando anche a voi e vi aspetto al prossimo tutorial ciao amorosi